Ritengo improcrastinabile che la Commissione Sanità del Consiglio regionale sia messa a corrente dei contenuti definitivi del modello funzionale e del programma operativo dell'azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna, la REUS. Questo piano regolamento il patrimonio, il personale e le specifiche funzionali dell'azienda, tutti argomenti particolarmente sensibili che potrebbero portarsi dietro anche delle criticità, è quanto scrivere una nota nella forma consigliera regionale del PD e componente della Commissione Consigliare Sanità. È necessario pertanto che l'Aggiunta regionale attivi quanto prima un confronto con il Consiglio regionale che deve essere messo nelle condizioni di esprimere il proprio parere. La REUS è stata istituita a essenza dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 17 novembre 2014. La stessa norma stabilisce e precisa la consigliera forma che sia l'Aggiunta regionale a definire il patrimonio, il personale e le specifiche funzioni della REUS, nonché le interrelazioni di questa con le altre realtà del sistema sanitario regionale. Su questi aspetti deve per legge esprimersi anche il Consiglio regionale attraverso la Commissione competente per materia entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di parere con allegato il piano. Tutto ciò avrebbe dovuto concludersi entro giugno, ma ad oggi, scrive la consigliera forma, non abbiamo ricevuto dall'Aggiunta alcun programma operativo da valutare su cui esprimerci. Per queste ragioni ho chiesto al Presidente della Commissione sanitaria, Raimondo Perra, di metterci nelle condizioni di poter esercitare il nostro ruolo di controllo e verifica preventiva, questo al fine di scongiurare il rischio che l'Aggiunta regionale su questa parte fondamentale della riforma del nostro sistema regionale provveda autonomamente senza tener conto delle nostre valutazioni. Grazie a tutti.